ehm cerco di condividere la presentazione eh riusciti a vederla se cortesemente mi date un cenno penso perfetto ottimo perfetto allora benvenuti a tutti vedo che siete numerosi la cosa che ci fa molto piacere è che vediamo che vi state collegando da tutte le regioni d'Italia ed era proprio questo l'obiettivo che avevamo con la presente edizione eh duemila e ventitré eh perché abbiamo esteso il partenariato a nuovi centri Europe Direct proprio per poter coprire meglio il territorio e quindi arrivare a tutti. Eh vi presento infatti un attimo il partenariato di quest'anno chiedo ai colleghi del centro Europe Direct Roma Innovazione Cooperativo presso il Forma XPA di collegarsi appunto per farsi per presentarsi e per farsi conoscere e in particolare chiedo a Gianluca Finito e a Raffaella Scordino di eh presentarsi. Stengono perfetto Raffaella Scordino e Gianluca Finito che tra l'altro oggi vi assisteranno nei problemi di collegamento e che ringrazio per tutto il supporto eh che ci hanno ci stanno dando. Eh dopodiché volevo fare un saluto al coordinatore eh del centro Europe Direct dell'Università di Siena Angelita Campriani e del suo staff e quindi anche a Monica Masti chiedo cortesemente di collegarsi in linea eh sempre per presentarsi e tra l'altro l'Università di Siena è l'ideatore di questo format delle lezioni di Europa che poi ha ehm esteso anche eh ad altri partner e quindi inizialmente siamo entrati noi come Roma Innovazione insieme al Consorzio Universitario di Trapani Sicilia e questo è avvenuto più o meno nel duemila e venti nell'anno della pandemia eh ecco esattamente abbiamo anche il professor Massimiliano Monchini a cui dopo eh lascerò la parola per un breve saluto che è proprio l'ideatore del format presso l'Università di Siena eh ancora abbiamo come partner quest'anno il centro Europe Direct dell'Università di Chiechi e anche della provincia di Verona non so se hai collegato con noi Andrea Zanogli eh stamattina della provincia di di Verona ci sei? ehm se cortesamente ti rendi visibile e anche ad Annalisa Michetti dell'Università di Chiechi eh chiederei anche di rendersi visibile per un saluto. In più questo. Perfetto ecco Annalisa Michetti che è la coordinatrice del centro Europe Direct del di Chiechi mentre ehm abbiamo Andrea Zanogli ti sei reso visibile? Sì sì sono visibile. Dell'Università del ehm dello Europe Direct invece della provincia di Verona. Eh ancora quest'anno eh il partenariato è ancora più ampio perché ehm abbiamo un po' diciamo potuto usufruire del supporto alla comunicazione e la distribuzione di questa attività ehm eh attraverso la regione Lazio in particolare la direzione programmazione economica e quindi l'ufficio Europa. Il dipartimento programmazione regione Sicilia eh nella persona di Marco Tornambè. Marco se cortesemente ti colleghi per ehm un saluto ma ancora volevo ringraziare l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici della regione eh Sicilia che ci ha dato una mano nella diffusione dell'informazione eh sul territorio siciliano presso le scuole ma anche dell'Università degli Studi di Palermo e Politeia. E tra l'altro vi devo volevo ringraziare anche tutti gli istituti scolastici che sono collegati con noi dalla Sicilia che sono tantissimi. Abbiamo Trapani, Marsala, Castellammare, Acideale, Palermo. Insomma ehm quest'anno abbiamo un eh un ampio eh pubblico di studenti. Questo ci fa molto piacere perché ehm in realtà poi i giovani sono i cittadini europei eh di domani. Eh volevo lasciare un attimo la parola a Marco Tornambè della regione siciliana per un breve saluto. Marco ci sei? Sì Claudia buongiorno a tutti eh sono Marco Tornambè cura la comunicazione del del FESR per la regione siciliana eh e ringrazio naturalmente Claudia Salvi tutti i soggetti coinvolti tutti gli Europe Direct italiani eh di questa opportunità che viene offerta ai cittadini e agli studenti. È un momento diciamo complesso ancora più complesso questo e le lezioni d'Europa servono. Servono intanto a dare trasparenza a dare informazione chiara rispetto ad un momento complesso che non riguarda soltanto i fondi europei e i strumenti finanziari ma tutta la situazione eh adesso in essere diciamo in Europa e quindi è un vero piacere per noi riuscire a contribuire a comunicare le lezioni d'Europa a tutti i soggetti destinatari perché oggi c'è bisogno proprio di questo maggiore chiarezza e maggiore visibilità dell'azione che l'Europa sta svolgendo adesso eh in tutti i territori comunitari. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Marco ehm abbiamo oggi qui con noi anche Manuela Sessa che è la coordinatrice della rete dei centri di Europe Direct italiani eh al termine di questa presentazione infatti eh passerò la parola ehm a Manuela Sessa e poi al professor Montini che ci racconta un po' di com'è nato questo ciclo. Cercheremo di essere veloci perché appunto non vogliamo poi togliere spazio alla lezione del professor Pasquinucci. Io velocemente vi racconto soltanto un po' quali sono le attività che ancora andremo a ehm a organizzare da qui a fine anno. Eh vi parlo un attimo velocemente delle cose più tecniche che riguardano eh il ciclo lezioni d'Europa. Eh l'edizione prevede nove webinar che cominciano oggi due marzo e termineranno il diciotto maggio. Quali sono i temi che andremo a toccare? Comunità politica europea che è il tema di oggi, cittadinanza europea, uguaglianza, diritti e valore perché abbiamo tramite il punto di contatto nazionale avevamo una presentazione ufficiale del programma ma parleremo anche di patto europeo per il clima, di giovani, degli nuovi fabbisogni di competenze perché il duemila e ventitré dovrebbe essere l'anno europeo eh delle nuove competenze e poi ehm parleremo anche come sempre di finanziamenti europei anzi forse quest'anno ne parliamo anche di più di finanziamenti europei proprio perché abbiamo ricevuto eh molte richieste in tal senso da parte dei nostri utenti. Eh chi può partecipare alle elezioni di Europa? In realtà tutti i cittadini che sono interessati eh a queste tematiche indipendentemente dal tipo di formazione culturale che hanno. L'importante è appunto avere un interesse verso quelli che sono i temi europei. È possibile partecipare anche alle singole iniziative. L'importante è che vi registrate di volta in volta sulla pagina dedicata a quell'evento. Eh tutti quelli che sono interessati possono poi contattare i vari centri di Europe Direct coinvolti eh nell'iniziativa per ricevere ulteriori informazioni. Eh un piccolo avvertimento sappiamo che ci sono collegate molte classi. Le classi che partecipano in gruppo possono registrarsi tramite la mail del loro docente se però poi cortesemente comunicate all'indirizzo email europe direct chiocciola formex.it il numero di studenti che sono stati presenti in quella lezione. Eh molti di voi ci contattano subito dopo l'evento per chiedere l'attestato di iscrizione. Eh questo viene inviato circa una settimana dopo l'evento dopo l'invio di una mail da parte del nostro staff. Eh dopo che avrete ricevuto questa mail dovete compilare il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare questo certificato di iscrizione. Però ecco non ci contattate prima di una settimana perché è il tempo che noi ci mettiamo per eh attestare tutte le presenze. Siete in tanti e quindi questo lavoro richiede un po' di tempo. Eh ma per tornare al calendario delle elezioni eh oggi si parla di comunità politica europea ehm mentre la prossima puntata incominceremo già ad avere un affondo su quelli che sono i fondi europei. Eh la la puntata del nove marzo in realtà approfondiremo un po' il tema di dove troviamo l'informazione sui fondi. Qual è la differenza tra fondi strutturali, fondi diretti, quando si usano gli uni e quando si usano gli altri. Poi avremo alcune puntate proprio su finanzo, alcuni eh programmi di finanziamento diretto. Uno di questi è cittadino a uguaglianza diritti e valori e valori e avremo appunto il coinvolgimento del punto di contatto nazionale così come avremo con noi una puntata sulla eh l'Erasmus plus per le scuole e anche in questo caso eh coinvolgeremo abbiamo coinvolto il punto di contatto nazionale del programma Erasmus ma parleremo anche di finanziamenti europei nel settore digitale. Questo lo faremo insieme all'agenzia esecutiva della Commissione europea per la salute digitale e così come avremo anche alcune tematiche più specifiche eh relativi al patto europeo per il clima eh in particolare eh con due focus quello della crisi energetica e quello della mobilità sostenibile eh e in più poi avremo un'ultima puntata che si farà in presenza a Trapani ma che comunque sarà trasmessa in diretta streaming su l'euro progettazione e qui in realtà parleremo di come si presenta una proposta di progetto da far finanziare nell'ambito dei eh finanziamenti diretti. Avremo anche una puntata speciale in occasione appunto dell'anno europeo per le competenze professionali dove parleremo eh dei giovani e dei nuovi fabbisogni di competenze e verrà presentata anche l'iniziativa di inserimento sociale Alma che fa parte del programma eh del fondo sociale europeo plus. Eh qui vi ho messo poi tutti i link delle singole pagine attraverso le quali voi potrete procedere alla registrazione. Vi ricordo che sia le presentazioni che la videoregistrazione sarà pubblicata sulla pagina dell'evento qualche giorno dopo l'evento e quindi anche queste slide con tutti i link che possono esservi utile per registrarvi. Eh quindi la prossima lezione sarete con me avremo anche una presentazione da parte del centro Europe Direct di Chiedi che ci parlerà delle attività che organizzerà la Chiedi eh sul proprio territorio. Ancora sempre con questo partenariato in realtà noi stiamo dando vita a un a un secondo ciclo eh di incontri eh in presenza che saranno organizzati in presenza nelle sedi delle città degli Europe Direct ma saranno comunque trasmessi in streaming. Questo ciclo partirà il tre maggio e si concluderà qui a Roma il trentuno maggio. In realtà questo ciclo eh che parlerà appunto di fake news eh si rivolge in prima battuta a giornalisti e comunicatori pubblici però in realtà abbiamo deciso di aprire il ciclo a tutta la cittadinanza in particolare anche a tutti gli studenti che ehm sono i stanno frequentando corsi di giornalismo e comunque che hanno a cuore la tematica della comunicazione pubblica. Quindi ehm le pagine sono state già pubblicate. Vi abbiamo messo qui il link alla pagina principale attraverso il la la prima pagina potete poi accedere alle altre quindi procedere alle iscrizioni. Una solo avvertenza per i giornalisti è probabile cioè questo ciclo darà ehm avrei i crediti formativi i crediti per i giornalisti però per poter avere i crediti questi eventi saranno eh nei prossimi mesi inseriti all'interno della piattaforma per i giornalisti. Quindi i giornalisti che sono interessati a partecipare quindi a ottenere i crediti dovranno registrarsi non su eventi PA ma attraverso la piattaforma dell'ordine dei giornalisti. Eh dopo di che noi abbiamo ancora eh sempre con questo partenariato che tra l'altro sarà anche ampliato eh a Venezia e a nuovo un ciclo di eh webinar e forse anche con qualche evento in presenza che verrà organizzato in occasione eh diciamo per ricordare per informare i cittadini del piano europeo di lotta contro il cancro. Questo ciclo comincerà a fine settembre fino a dicembre e ha come obiettivo quello di formare i sei cittadini che gli studenti su come prevenire in particolare due tipi di tumore che sono quelli più comuni il cancro al seno e il cancro al polmone. Eh affronteremo vari argomenti tra cui eh l'inquinamento indoor eh anche l'aspetto psicologico della malattia infatti cercheremo di parlare anche di onco wellness ehm ma principalmente cercheremo di focalizzare l'attenzione sulla prevenzione. Eh noi sappiamo che l'Unione Europea non ha grandi competenze nel settore della salute ma comunque svolge un'importante azione di coordinamento e di controllo sulle attività che poi gli stati membri svolgono eh a livello eh nazionale e quindi eh vorremmo presentare appunto quella che è l'attività dell'Unione Europea in questo settore. Ancora eh soltanto diciamo come partenariato tra Europe Direct Romagna, Siena e Roma abbiamo un ciclo di tre incontri che è partito il ventitré febbraio e si concluderà sull'undici maggio. Ehm un ciclo di incontri ehm su sono più che altro storici organizzati ehm dalla eh fondazione Conrad Adeno Auer Stiftung. Abbiamo ancora due appuntamenti uno il venti aprile dove si parlerà dei capelli al vento, le donne iraniane, la lotta per la libertà e tra l'altro questo ci ha ispirato il video di questa mattina eh che era appunto il video dei Cold Play con un gruppo musicale iraniano che ehm non può più cantare in patria perché avendo ehm trattato temi della libertà delle donne ora sono esidiati e Cold Play giustamente stanno cercando di eh rendere eh di sensibilizzare ehm eh il pubblico su questi argomenti attraverso il coinvolgimento del gruppo iraniano. Ancora abbiamo c'è uno ci sarà un appuntamento l'undici maggio eh dove si parlerà di Brexit. Ehm l'incontro dell'undici maggio però sarà in lingua inglese. Eh ancora come ehm in partenariato tra eh lo Europe Direct Verona e lo Europe Direct Roma Innovazione e con il coinvolgimento della Banca d'Italia eh prevediamo un ciclo di quattro incontri online sulla la finanza. Eh il secondo appuntamento eh il primo appuntamento c'è stato il due febbraio. Il secondo appuntamento si terrà il diciassette aprile anche in questo caso è un webinar ed è un webinar che sarà indirizzato agli studenti delle eh quinte classi dove appunto si tratteranno quelli che sono i temi finanziari eh della finanza digitale e mh appunto per far conoscere questi strumenti e il modo corretto per utilizzarli. eh anzi chiedo ai partner dell'iniziativa alla regione siciliana, alla regione Lazia eh poi di aiutarci nella pubblicizzazione di questo ciclo vi invierò tutte le informazioni. Eh a Viterbo poi come Europe Direct Siena e Europe Direct Roma Innovazione avremo un evento in occasione della festa dell'Europa per ricordare la figura di David Sassoli. Avremo tra i relatori professor Pasquinucci che il relatore di questa giornata e questo evento si terrà il eh fine maggio il trenta maggio. In più eh saremo anche quest'anno partner dell'iniziativa Bicirrosa che è questo evento di sensibilizzazione sul cancro al seno insieme al campus biomedico eh nell'edizione duemila e ventidue siamo stati eh anche eh in partenariato con la regione Lazio e con il comune di Roma eh e sarà una pedalata è molto bella perché le strade del centro di Roma vengono chiuse e ci sarà questa sfilata in rosa di tutti i partecipanti e quindi vi aspettiamo il primo ottobre eh nel centro di Roma per pedalare tutti insieme. Eh vi ricordiamo il nostro focus web ehm vi lo faccio vedere velocemente ma in realtà poi la prossima puntata andremo a vedere tutti i servizi che vengono offerti tramite il sito quindi abbiamo le banche dati dedicate ai finanziamenti diretti una banca dati di eh bandi scadenza abbiamo una newsletter e abbiamo anche una sezione notizie. Se volete ricevere gli inviti da noi a tutte le nostre attività vi consigliamo di scrivervi alla nostra newsletter perché così ci potete dare il consenso all'invio anche degli inviti eh ai nostri eventi. Queste sono le banche date vi ripeto non mi soffermo perché ne parleremo ampiamente nella prossima puntata se avete qualsiasi tipo di eh domande ci potete contattare allo europe direct chiocciola formaz.it e vi ricordiamo che abbiamo tre focus web di informazione sull'Europa europa.formaz.it che è il focus generale dove noi inseriamo un po' tutte le notizie e le informazioni il focus web programmicomunitari.formaz.it dedicato ai finanziamenti interventi diretti e poi invece abbiamo un altro focus gov.formaz.it che è il focus web dedicato all'innovazione digitale e anche a tutto ciò che in Europa viene fatto nel settore dell'innovazione eh digitale. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio nuovamente lo staff eh dello Europe Direct Room Innovazione ma anche di tutti gli Europe Direct partner dell'iniziativa eh lascerei la parola per un saluto a Manuela Sesta della rappresentanza della Commissione Europea e poi a ehm Massimiliano Montini. Prego Manuela ci sei? Mi sentite bene? Benissimo grazie. Bene grazie mille, grazie a tutti, buongiorno a tutti innanzitutto eh è con grandissimo piacere che intervengo oggi a questo incontro per un saluto da parte mia e da parte di tutta la rappresentanza in Italia della Commissione Europea eh a tutti i partecipanti in primis a tutti gli studenti presenti oggi ho sentito che si insomma sono tante le classi eh che si stanno collegando ehm e insomma il mio vuole essere un saluto ma in realtà voi vorrei anche condividere con voi un po' quello che facciamo. Buona in parte ve ne ha già parlato Claudia insomma raccontando il ricco programma di lavoro che hanno appunto per 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 quest'anno ma vorrei un pochino ehm estendere il discorso insomma a tutti i centri Europe Direct alla rete che ho diciamo il piacere e l'onore e anche l'onere di eh coordinare qui da qui da Roma. Eh vorrei innanzitutto ringraziare appunto i centri Europe Direct che collaborano alla realizzazione di questo percorso didattico e informativo perché così contribuiscono alla conoscenza dell'istituzione e delle politiche sull'Unione Europea. Quindi grazie a Roma Innovazione eh lo Europe Direct dell'Università di Siena, Trapani, Sicilia, Chieti e Verona. Ringrazio il professor Pasquinucci che terrà la la lezione eh odierna e tutti i relatori che interverranno nelle prossime elezioni e eh ringrazio anche il partenariato istituzionale di cui ci parlava Claudia molto strutturato e che è alle spalle di questo eh progetto. Eh sicuramente questo è appunto un esempio virtuoso eh di collaborazione tra tutti eh cioè tra alcuni eh centri Europe Direct quindi una best practice a livello europeo anzi avrò sarò lieta insomma di portarla all'attenzione eh del signor management a Bruxelles perché è davvero appunto una best practice perché vede centri eh Europe Direct dislocati in vari punti d'Italia eh e ospitati presso strutture differenti quindi abbiamo il Formez, abbiamo l'università, abbiamo una struttura, un ente provinciale eh un consorzio appunto universitario collaborare e lavorare insieme per un obiettivo comune che è quello di comunicare l'Europa sul territorio, avvicinare i cittadini alle tematiche europee contrastando così eh purtroppo la disinformazione che ruota intorno a tutti i temi europei e a tutto insomma quello che l'Unione Europea purtroppo fa. Eh questo obiettivo è ovviamente anche la nostra missione, la nostra missione in quanto rappresentanza eh in Italia della Commissione Europea. Infatti noi abbiamo una sede eh per chi ancora per chi insomma non lo sapesse abbiamo la sede principale qui a Roma e un ufficio regionale a Milano. Diciamo che la Commissione Europea è presente con eh strutture simili quindi con rappresentanze eh sul territorio di tutti e ventisette gli stati membri e ehm la rappresentanza in Italia ma lo stesso avviene appunto negli altri paesi si avvale per questa attività di comunicazione quindi per questa missione per portare avanti questa missione appunto della rete eh Europe Direct che è composta da quarantasette centri Europe Direct e cinquantadue eh centri di documentazione europea e eh insomma è sicuramente eh una rete molto attiva tra le più attive in Italia e eh anche tra le più eh grandi in Italia insomma. quindi per questo vi dicevo che è un onore e un onere eh coordinarla da Roma. Eh in Italia in tutta Europa ehm giusto per fornirvi anche un quadro europeo vi sono eh attualmente quattrocentotrentuno centri Europe Direct distribuiti appunto in tutti gli stati membri che come dicevamo appunto rappresentano uno dei eh sicuramente dei canali decentrati più efficaci per raggiungere e coinvolgere i cittadini infatti quello di oggi ne è un esempio oltre a fornire informazioni offline ed online sull'Unione Europea i centri si impegnano proprio in qualità di partner perché in questa attività noi siamo partner ehm cioè la rete quindi centri Europe Direct sono partner sia della Commissione Europea che del Parlamento Europeo ehm e organizzando appunto eventi conferenze e quindi stimolando il dialogo e il dibattito all'interno delle comunità locali. Per quanto riguarda i centri di documentazione europea eh ospitati prevalentemente eh diciamo le strutture alle volte eh le strutture coincidono quindi mh però i centri di documentazione europea sono ospitati prevalentemente in eh università e in biblioteche in tutta Europa ne abbiamo duecentottanta e ben cinquantadue eh soltanto in Italia ehm sicuramente la rete Icdie è quella italiana è quella più attiva mh perché diciamo Icdie sono nati come centri per promuovere eh principalmente promuovere e sviluppare le attività di studio e ricerca nel campo dell'integrazione europea ma poi ehm stanno diventando sempre di più attori eh coinvolti attivi nella comunicazione e nel coinvolgimento appunto dei dei cittadini sulle tematiche e le priorità europee e diciamo che ormai la la collaborazione fortunatamente l'integrazione ehm quindi la collaborazione tra i centri Europe Direct e i centri di documentazione europea è sempre più eh all'ordine del giorno. Eh vorrei brevemente fermarmi ehm insomma focalizzarmi sulle appunto su queste priorità di comunicazione ehm della rete Europe Direct ma che ovviamente appunto in quanto nostri partner sono condividono ovviamente eh cioè sono anche le nostre priorità di comunicazione eh che si ispirano eh naturalmente al programma di lavoro della Commissione Europea del duemilaventitré adottato appunto lo scorso ottobre che a sua volta si fonda sul discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato alla Presidente Ursula von der Leyen lo scorso quattordici settembre. Ovviamente in questo percorso voi andrete ad analizzare, ad approfondire eh proprio il programma di lavoro eh della Commissione Europea e quindi andrete eh nel dettaglio di eh insomma delle delle singole ehm delle singole priorità. Eh quindi avrete diciamo modo di vedere come questo programma di lavoro eh con con questo programma di lavoro la Commissione ha voluto definire un'agenda che possiamo definire ambiziosa e coraggiosa sicuramente per rispondere alle attuali crisi che purtroppo pesano sul nostro quotidiano impegnandosi così a raddoppiare gli sforzi per conseguire le le trasformazioni verde e digitale che sono in corso rendendo così l'Unione Europea eh più resiliente. Tra queste priorità sicuramente c'è ehm quella di comunicare appunto sulla transizione ecologica e digitale e quindi sul gridi o gridi l'europeo e sul decennio digitale europeo con particolare riferimento ai progetti eh attuati nell'ambito del piano nazionale di ricerca e resilienza che appunto sono finanziati grazie a eh Next Generation EU eh sottolineando qual è poi in realtà il cioè mh a conti fatti il loro concreto impatto sul territorio italiano e quindi sulla ricostruzione dell'economia e sulla promozione eh di misure sociali. Ehm l'altra priorità di comunicazione è quella di fare chiarezza e di combattere come dicevamo appunto prima la disinformazione eh in generale ma nello specifico in tema di risposta dell'Unione Europea alla guerra in Ucraina e quindi eh tutto quello che riguarda il pacchetto ehm nel piano Repower EU la sicurezza e la transazione la transizione energetica la politica di difesa le politiche di vicinato e l'allargamento. Eh altra priorità di comunicazione eh sono i valori europei quindi comunicare sui principi di stato di diritto di democrazia eh sui valori e quindi sul loro rispetto e proprio a tal riguardo ehm l'altro ieri è stata lanciata eh ufficialmente diciamo la seconda parte della campagna di comunicazione istituzionale eh you are Europe incentrata proprio sulle priorità transizione energetica e valori europei. Eh in tema di priorità mi preme ricordare che quest'anno quindi il duemila ventitré è stato proclamato anno europeo delle competenze appunto come già annunciato a settembre dalla presidente nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Eh in realtà la transizione verde e digitale stanno aprendo eh hanno già aperto stanno aprendo e ne apriranno insomma ehm apriranno numerose nuove opportunità eh per i giovani ma per l'economia dell'Unione Europea in generale e quindi disporre delle competenze giuste diventa un requisito necessario per affrontare ovviamente con successo tutti i cambiamenti che il mercato eh del lavoro insomma presenta e per essere una parte a per essere per poter essere giocare un ruolo attivo quindi essere parte attiva della società e della democrazia. L'obiettivo naturalmente è ambizioso ed è ehm quello praticamente di garantire che nessuno resti indietro nessuno resti escluso e che la ripresa economica quindi e la transizione eh verde e digitale siano socialmente equi e giuste perché ovviamente avere una forza eh lavoro dotata eh di competenze giuste eh e adatte ehm contribuisce ovviamente alla crescita ehm sostenibile produce più innovazione migliora la competitività delle imprese quindi eh la rete Europe Direct e e insomma ha questa priorità ed è fortemente incoraggiata a seguire le iniziative ed organizzare eh attività anche in tale ambito direi prioritario perché ehm il patto che delle competenze che ci propone l'Unione Europea è con qualcosa che praticamente è una sfida che non possiamo perdere o non possiamo eh mancare quindi mh poi in questa scelta della Presidente appunto di dedicare eh insomma fatte inizialmente, enunciate inizialmente dalla Presidente di dedicare il duemilaventitré ehm alle competenze interdisciplinari e multidisciplinari naturalmente si intravede un chiaro eh sguardo attento alle future generazioni. Infine ma non per questo meno importante, con questo concludo perché non voglio insomma eh levare tempo prezioso al alla lezione di oggi ehm il duemilaventitré è un anno preparatorio in vista delle elezioni europee del duemilaventiquattro. Nel duemilaventiquattro si si andrà infatti a votare per il Parlamento europeo, ci saranno giovani che andranno a votare per la prima volta e e quindi è fondamentale che lo facciano in maniera consapevole perché appunto da queste scelte dipenderà il futuro dell'Unione Europea che poi diciamo altro non è che ehm il nostro futuro quindi io vi ringrazio ehm per l'attenzione e vi invito naturalmente a seguirci, a seguire eh il sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, a seguire i nostri canali social con l'account ehm Europa in Italia e auguro a voi tutti un buon lavoro Grazie Manuela, grazie mille, ora lascerei la parola al professor Montini Buongiorno a tutti, ringrazio Claudia Salvi per l'introduzione, ringrazio la dottoressa Sessa e tutti gli altri che sono intervenuti in questa eh giornata inaugurale della nuova edizione di Lezioni d'Europa. Eh io sono il professor Montini dell'Università di Siena, io sono particolarmente eh felice quest'anno di essere qui eh per salutarvi, salutare tutti i partecipanti in questa giornata appunto inaugurale del nuovo corso, ormai è più di dieci anni e all'Università di Siena abbiamo lanciato questo format delle lezioni d'Europa, noi siamo attivi come Centro Europe Direct dal duemiladiesci, attivi in una università e questo come ha detto eh come è stato già detto è un caso ehm abbastanza raro in Italia siamo cinque università che lo spieghiamo i centri Europe Direct e devo dire che negli ultimi anni soprattutto dopo il rinnovo del centro dal duemilaventi abbiamo lavorato molto eh sull'idea di partnership e e ed oggi devo dire sono particolarmente lieto di vedere così tanti partner di questa nuova edizione di vedere un sostegno eh pieno della rappresentanza con la presenza della dottoressa Sessa devo dire mi fa molto piacere perché questo è stato proprio il lavoro che noi abbiamo messo diciamo un po' eh come dire cercando di 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 vedere qualcosa di positivo nell'evento tragico della pandemia eh che ci ha eh in qualche modo obbligato ad uscire dalla modalità in presenza che era quella che aveva contraddistinto le nostre attività dal duemiladiesci al mila venti e eh proporsi eh in un contesto diciamo ehm di eh eventi online e e ora dopo la pandemia negli ultimi due anni abbiamo ripreso con modalità mista quindi facendo eventi sia in presenza sul territorio sul nostro territorio di riferimento e però anche mantenendo eh eventi di ehm diciamo di livello nazionale diciamo come questo quindi le elezioni d'Europa che noi abbiamo ideato appunto più di dieci anni fa ma si sono molto trasformate nel tempo eh sia appunto nelle modalità nella presenza di molti partner istituzionali e di molti partner di altri centri Europe Direct cosa che appunto a noi fa eh molto moltissimo piacere e anche come contenuti direi perché i primi corsi avevano forse più un approccio eh formativo sui temi eh dell'Unione Europea eh quest'anno abbiamo un corso più compatto di ehm nuove elezioni che come è stato già detto si svolgerà appunto da oggi fino alla eh intorno al venti di maggio e eh abbiamo ehm un approccio più legato a quelle che sono le istanze che ci vengono sia dai nostri eh partecipanti e quindi abbiamo aumentato il numero di eh lezioni che si occuperanno di temi legati ai finanziamenti europei differenziando anche eh quindi non solo con lezioni generali come quella che ci sarà la prossima settimana eh sui finanziamenti europei come quella che ci sarà nell'evento finale ma anche lezioni tematiche legate a singole opportunità a singoli programmi rispetto ai quali ci può essere un accesso al finanziamento europeo. Abbiamo introdotto una giornata come è stato già in parte detto dedicata esplicitamente ai finanziamenti dedicati alle scuole perché il tema della eh portare l'Unione Europea la conoscenza dell'Unione Europea oltre che nell'università ovviamente come eh centro europeo e universitario è la nostra missione principale eh siamo diventati anche molto attivi nel coinvolgimento delle scuole non solo nel nostro territorio di riferimento del di Siena e della Toscana ma anche un partnership a livello nazionale e eh abbiamo quindi aumentato questi eventi legati alla alla formazione anche rispetto alle scuole e agli studenti scolastici che anche oggi ci stanno seguendo e che e che saluto e e poi diciamo abbiamo mantenuto qualche eh lezione tematica eh più legata ai temi di di attualità diciamo e quindi avremo come è stato già detto eh degli appuntamenti legati alle due transizioni la transizione verde la transizione digitale che sono le due transizioni di punta su cui è incardinato il programma di lavoro della della commissione europea presiduta da da Ursula von der Leyen quindi ci saranno appuntamenti specifici sulle due transizioni verde digitale e poi diciamo e mi fa piacere oggi di ehm lanciare il primo evento che come nella nostra tradizione è legato invece all'aspetto storico noi siamo fondamentalmente molto convinti che si debba assolutamente come già diceva eh Tucidide nel conoscere il passato per ehm capire il presente e orientare il futuro e quindi a me fa molto piacere che uno dei nostri eh colleghi uno dei miei colleghi e uno dei dei sostenitori dal fin dall'inizio del della Centro Europe Tarec Siena il professor Pasquinucci sia con noi anche oggi per lanciare eh la nuova edizione della ehm dell'elezione d'Europa a mia memoria il professor Pasquinucci è sempre stato eh uno degli dei 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 protagonisti della della prima o comunque delle prime e delle prime lezioni in questo corso anche quest'anno sono contento che abbiamo confermato questa tradizione perché è sempre importante cominciare con un profilo storico di inquadramento peraltro quest'anno il professor Pasquinucci da storico però ci parlerà anche di un tema che guarda al presente e al futuro cioè quello della ehm del progetto di comunità politica europea e quindi è con particolare piacere che ehm appunto lo lo ospiteremo come evento eh iniziale appunto il suo la sua lezione. Quindi a questo punto non so se tecnicamente ripasso la parola eh direi alla dottoressa Salvi che introdurrà il eh professor Pasquinucci e poi eh coordinerà anche la fase successiva delle domande. Quindi vi ringrazio, vi saluto tutti e vi auguro non solo buona lezione per oggi ma buon corso di lezioni d'Europa edizione duemilaventitré. Grazie Massimiliano, io non vorrei aggiungere altro perché vorrei lasciare il tempo poi al professor Pasquinucci di fare il suo intervento. Chiedo cortesemente al professor Pasquinucci di collegarsi, di condividere la propria presentazione e a questo punto buona lezione a tutti. Ci rivediamo verso la fine del della lezione. Bene, buongiorno a tutti. Spero che mi sentiate e mi vediate. Vorrei una conferma. Sì, vediamo e sentiamo. Vedete e sentite. Benissimo. Allora, prima di tutto io ringrazio la dottoressa Salvi e il professor Massimiliano Montini e attraverso loro ringrazio tutti i partner che anche quest'anno con energia e competenza sono riusciti a Daniele perdonami se puoi mettere la presentazione. Durante un cominciero. Adesso va bene? Lo vedete e mi sentite? Perfetto, grazie. Allora dicevo, ringrazio la dottoressa Claudia Salvi e il professor Montini, Massimiliano Montini, innanzitutto per l'invito e poi per aver organizzato in modo molto competente e con grande capacità anche questa edizione delle lezioni d'Europa. Oggi vi parlo in maniera abbastanza spedita, veloce, perché naturalmente essendo la prima lezione è stato necessario un po' spiegare che cosa facciamo in questo ciclo di lezioni d'Europa. Vi spiego, diciamo, mi affronto un tema di attualità che però diciamo rimanda anche ad alcune scelte che non è enfatico, che non è esagerato definire storiche e eventi che non è enfatico definire storiche, cioè la comunità politica europea analizzando nelle origini e le prospettive. Ciò che ci ha mosso, diciamo, che ci ha convinti ad affrontare questo tema è una constatazione che credo tutti condividerete e cioè che non c'è quasi nessun ambito della nostra vita politica e sociale, nemmeno nell'ambito professionale, nei quali e per quali l'Unione Europea ormai non eserciti una forte impurezza. Quindi capire qual è un possibile sviluppo e in parte già attuato sviluppo dell'Unione Europea è qualcosa che ci interessa tutti come cittadini ma anche in relazione appunto alla professione che svolgiamo. Molti di voi immagino saranno dipendenti della pubblica amministrazione. Credo che in questi anni abbiano percepito chiaramente qual è l'impatto delle scelte che vengono compiute nella Unione Europea anche nella loro vita professionale cercare di orientarsi quindi sugli sviluppi che sta prendendo l'Unione Europea è importante per tutti noi prima di tutto come cittadini e la comunità politica europea in questo senso è qualcosa che ci interessa ad avvicino credo. È la comunità politica europea una iniziativa che è stata presa dal presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron che in un discorso formulato al Parlamento Europeo il 9 maggio del 2022 quindi pochi mesi orsono in occasione della festa dell'Europa e a conclusione della conferenza sul futuro dell'Europa Macron ha proposto all'attenzione degli altri leader europei dell'Unione Europea e come vedremo non solo della Unione Europea. Ora io vi mostro due slide in cui riassumo rapidamente qual è diciamo il contenuto principale del discorso di Macron e si può iniziare dall'incipit dall'inizio del discorso di Macron perché Macron per introdurre la sua proposta di comunità politica europea si è ricollegato idealmente all'inizio del processo di interazione europea alla dichiarazione Schumann Schumann era il ministro degli esteri francesi che nel salone dell'orologio a Parigi il 9 maggio del 1950 lancia la comunità europea sostenendo che la comunità sarebbe conseguita da uno sforzo creativo perché creativo perché la comunità europea era una formazione inedita mai c'era stato qualcosa di simile alla comunità europea e Macron si ricollega questo sforzo creativo per lanciare la comunità politica europea e la lancia e questo è una diciamo affermazione esplicita che Macron fa in un momento di gravissima crisi non solo europea ma mondiale in un momento che ormai dura non è più un momento ma dura ormai da più di dieci anni nel quale la Unione Europea ha dovuto affrontare una serie di crisi che anche in questo caso non è enfatico definire esistenziali potenzialmente e certamente sistemiche crisi che sono iniziate con la recessione economica abbiata con la crisi del debito sovrano nella zona euro tra il 2010 e il 2011 e che poi è proseguita con altre crisi che illustrerò tra il momento in maniera sintetica fino ad arrivare all'attuale guerra russo-ucraina che si svolge evidentemente all'esterno delle frontiere dell'Unione Europea ma non c'è bisogno di dirlo ha un impatto sulla Unione Europea e quali sono allora le sfide sottostanti al progetto formulato da Emmanuel Macron ovvero la comunità politica europea un progetto che come vedremo ha come scopo quello di dare una risposta basata sulla difesa della democrazia dei valori e dei principi che animano l'Unione Europea le crisi che si sono susseguite tra il 2010 ed oggi sono numerose sono numerose inaspettate molte di queste ma quelle che in particolare hanno attratto l'attenzione di Macron convincendolo della necessità di proporre la comunità politica europea che è una struttura parallela alla Unione Europea non la sostituisce e complementare alla Unione Europea sono in particolare tre questioni la Brexit e Donald Trump c'è un legame tra questi due eventi i rapporti con la Cina e la guerra in Ucraina non sono le uniche crisi esistenziali e sistemiche vissute dalla Unione Europea la questione migratoria la pandemia i problemi energetici la diffusione dell'euroscetticismo sono anch'esse molto importanti ma io vorrei soffermarmi su queste tre crisi perché sono crisi geopolitiche di grandissimo di grandissima magnitudine di grandissimo rilevo alle quali Macron e coloro che hanno accettato l'impostazione di Macron hanno cercato di dare una risposta inizierei con la Brexit la Brexit lo sapete è frutto di una decisione presa dalla popolazione britannica dai cittadini britannici che nel giugno del 2016 hanno votato con una stretta maggioranza per uscire dalla Unione Europea e questo processo ha dato vita a questo referendum chiedo scusa ha dato vita ad un negoziato lungo complesso difficile tra la Gran Britannia e l'Unione Europea che si è concluso con l'uscita appunto della Gran Britannia all'indomani della Brexit all'indomani del referendum era abbastanza diffusa la idea il timore che poi si è rivelato fortunatamente infondato che questo potesse essere il primo passo verso una disintegrazione dell'Unione Europea la Brexit è stata una sfida straordinaria per l'Unione Europea ed una minaccia per l'Unione Europea dobbiamo contestualizzare la Brexit anche nel quadro della diffusione larga molto larga molto ampia dell'euroscetticismo e dell'eurofobia che in quel periodo erano molto radicati in Europa inoltre dobbiamo considerare il fatto che oggi noi pensiamo che la Brexit sia stata soprattutto un danno per i cittadini britannici e l'atteggiamento mutante dei cittadini britannici e di gran parte dei membri del partito conservatore che ha guidato il governo britannico ai tempi della Brexit il cambiamento della loro opinione sembra confermare che la Brexit è stata prima di tutto un danno per i cittadini britannici ma bisogna essere estremamente realistici e qui si collega quello che sto dicendo a quanto ha proposto Macron e considerare con attenzione il fatto che la Brexit e l'allontanamento volontario della Gran Bretagna e dall'Unione Europea è stato un danno anche per l'Unione Europea e lo vediamo molto bene oggi quando affrontiamo appunto una delle più importanti forse la più importante anzi senza dubbio la più importante crisi che minaccia l'Unione Europea ovvero la guerra russo-ucraina perché la Brexit è stata una sfida ed è tuttora una sfida sistemica perché l'allontanamento della Gran Bretagna ha significato molto in termini di rapporti internazionali tra l'Unione Europea e il resto del mondo per il peso economico della Gran Bretagna per le sue relazioni diplomatiche la ricchezza il patrimonio di relazioni diplomatiche della Gran Bretagna e perché la Gran Bretagna ha una potenza nucleare e quindi una potenza militare e quindi ha uno status internazionale peculiare tutto questo fino al 2016 era condiviso tra la Gran Bretagna e l'Unione perché la Gran Bretagna era nell'Unione oggi tutto questo non è più condiviso con l'Unione e questo è una perdita per l'Unione Europea analizziamo un attimo più nel dettaglio il peso economico le relazioni diplomatiche la potenza nucleare britannica iniziamo dal peso economico vedete bene le slide scusate se mi interrompo ma vorrei sapere se vedete bene le slide io le vedo bene ma penso sì benissimo allora questa è una è una sfera che mostra la distribuzione la non la distribuzione chiedo scusa il contributo che ciascun paese fornisce alla ricchezza mondiale ogni anno in questo caso del 2021 se non se non vedo male è il 2021 ora come vedete il Regno Unito lo vedete al centro di questa sfera contribuisce per la ricchezza mondiale se prendiamo diciamo questa parte della sfera che la parte che riguarda l'Europa per il 3,11 per cento circa è il secondo paese più ricco d'Europa dopo la Germania ed è come vedete molto più ricco anche di una potenza o almeno si considera tale internazionale un attore globale quale è la Russia quindi da un punto di vista economico il Regno Unito è almeno nell'ambito europeo ma direi non solo nell'ambito europeo un paese di primaria grandezza abbastanza importante molto importante il secondo aspetto per misurare il rilievo economico della Gran Bretagna è il contributo che questo paese dà al commercio mondiale noi sappiamo che l'Unione Europea non è soltanto la libertà di commerciare non è soltanto la libertà di far muovere liberamente al suo interno merci servizi e capitali questo lo sappiamo molto bene pensare che l'Unione Europea sia solamente il suo mercato interno evidentemente sarebbe un'ingenuità o un'analisi forbiante tendenziosa ma certamente l'Unione Europea è anche il suo commercio è anche appunto il suo mercato interno ora questi sono dati tratti dalla banca mondiale da un dal sito della banca mondiale e come vedete nella graduatoria delle partners commerciali per importazione ed esportazione la Gran Bretagna fa parte dei cinque primi dei cinque primi stati al mondo contribuisce come vedete per una percentuale che non è affatto irrilevante e pari al 3 e 42 per cento alla commercio mondiale anche in questo caso come nel caso precedente questa patrimonio non è più condiviso tra la Gran Bretagna e Unione Europea ma è mantenuto soltanto dalla Gran Bretagna. La Gran Bretagna è anche una potenza diplomatica qui si può usare la parola potenza senza alcuna esitazione questo che vedete è una immagine tratta da questo dal sito di questo Law Institute che appunto misura l'irradiamento di ciascun paese e l'irradiamento diplomatico delle relazioni diplomatiche di ciascun paese anno per anno. Quello che vedete sono le ambasciate, i consolati, le missioni permanenti del Regno Unito nel mondo e come vedete è un irradiamento, irraggiamento che è estremamente denso, molto denso. Ovviamente questo è in larga misura frutto dei rapporti diplomatici e non solo diplomatici evidentemente storici che la Gran Bretagna ha diciamo eredita in qualche in qualche modo anche dal suo passato coloniale. Ora questo irradiamento diplomatico è di grandissimo valore, è di inestimabile valore perché significa relazioni, significa rapporti, significa capacità di entrare in dialogo e in contatto con altri paesi nel mondo, compresi quei paesi con cui oggi l'Unione Europea ha rapporti controverse e conflittuali. E anche in questo caso la Gran Bretagna uscendo dalla Unione Europea ha sottratto questo patrimonio, questa ricchezza ad una condivisione, ad una gestione in qualche modo comune. Infine, e procedo rapidamente, la questione della Gran Bretagna come potenza nucleare. Qui come vedete ci sono diciamo una tabella, un grafico, una immagine che vi mostra la potenza nucleare britannica. Ora naturalmente lo status internazionale di un paese non è certo fatto soltanto dalla sua potenza nucleare, che auspicabilmente e prevedibilmente, spero di non sbagliarmi, non verrà mai usata da nessuna di queste potenze. Ma come vedete tutti coloro che hanno armi nucleari sono anche potenze internazionali, svolgono cioè un ruolo di attori principali nell'ambito delle relazioni internazionali e il Regno Unito è tra queste. E ancora una volta, mi scuserete se mi ripeto, questo status internazionale che è dato da tutto quello che vi ho detto prima, ma è dato anche dal suo status, dalla sua qualità di potenza nucleare, è stato sottratto dalla gestione comune, dalla condivisione attraverso la Brexit. Quindi, uscendo dall'Unione Europea e britannici, secondo me, e ormai molti di loro la pensano nello stesso modo, hanno fatto un errore, forse sono stati un po' atolesionisti, ma allo stesso tempo anche l'Unione Europea ha pagato un prezzo per questo. Quindi oggi non si parla più di Brexit, cioè se ne parla ancora, perché proprio nei giorni scorsi c'è stata la definitiva accoglie sul protocollo per i rapporti con l'Irlanda del Nord, ma comunque la Brexit è un fatto compiuto, non ha disintegrato l'Unione Europea, non è stato il primo passo verso il collasso, ma certamente ha provocato danni alla Unione Europea. E, contemporaneamente allo sviluppo della Brexit, l'Unione Europea ha vissuto un'altra grave crisi, che è coincisa con l'insediamento di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti. La Brexit, il referendum si è stato indetto nel giugno del 2016, quando Donald Trump aveva iniziato la sua campagna elettorale che lo porterà alla Presidenza degli Stati Uniti in quello stesso 2016, o meglio, vince le elezioni nel novembre del 2016 e, come tradizione negli Stati Uniti, si insedia nel gennaio dell'anno successivo, nel 2017. Quindi c'è una coincidenza. Da un lato la Brexit, che è l'apice dell'euroscitticismo, dall'altro c'è l'avvento di Donald Trump, un presidente che considerava l'Unione Europea un nemico. Ora vi faccio sentire cosa ha detto Trump durante un comizio della campagna elettorale che lo ha portato alla Casa Bianca riguardo sulla Unione Europea e sentirete qual era l'atteggiamento di Trump nei confronti dell'Unione Europea. Donald Trump sale sul ringhi in Michigan e sferra un gancio all'Unione Europea. Durante un comizio a Washington Township, il presidente americano attacca l'UE affermando che i paesi europei hanno creato l'istituzione internazionale per approfittare commercialmente degli Stati Uniti. Sapete? Sembra così bella l'Unione Europea. E sapete perché? Voglio dire, lo hanno fatto letteralmente. Hanno formato l'UE per trarre vantaggio dagli Stati Uniti e non li biasimo. Sapete cosa? Non li biasimo. Non biasimo neanche il presidente Xi o il primo ministro giapponese Abe. Non biasimo i leader di questi paesi per aver approfittato di noi, ma do la colpa agli ex presidenti ed ex leader del nostro paese. Trump ha inoltre dichiarato davanti ai suoi sostenitori che non si fermerà davanti a nulla per aggiustare lo squilibrio commerciale da lui denunciato. Il capo di Stato americano ha avvertito i presenti che potrebbero arrivare delle battute d'arresto temporane per l'economia statunitense, ma in vista di un futuro brillante. Trump è il primo presidente americano che considera l'Unione Europea come un potenziale rivale, un nemico, qualcosa quindi di inedito diciamo nella storia Donald Trump nella storia dei rapporti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. E che cosa ha insegnato questo agli europei? E che cosa ha insegnato questo a Macron? E si ricollega alla questione della comunità politica europea. Ha insegnato a Macron e agli europei che buoni rapporti con gli Stati Uniti non sono un dato della natura, non sono un dato scontato. I rapporti tra Stati Uniti ed Unione Europea possono anche conoscere gravi crisi come quelle che si sono mostrate durante tutta la presidenza Trump, perché Trump ha dato seguito a quanto detto durante la campagna elettorale, ha sostenuto la Brexit, ha sempre visto l'Unione Europea come un rivale se non come un nemico e tra il 2017 e il 2020 quando è finita la presidenza Trump i rapporti tra l'Unione e gli Stati Uniti sono stati rapporti pessimi e questo ha insegnato all'Unione Europea che come dicevo prima i rapporti buoni con gli Stati Uniti come erano in precedenza non sono un dato naturale e che l'Unione Europea si deve attrezzare per poter operare nell'ambito internazionale anche avendo rapporti tesi con gli Stati Uniti. L'attuale presidenza vera di Joe Biden è molto diversa fortunatamente ma anche Biden ha preso, ha fatto delle scelte, ha adottato delle decisioni che sono state viste negativamente dall'Unione Europea. In particolare l'Unione Europea ha visto male, con dispiacere diciamo così, un atto interno di politica interna degli Stati Uniti promosso da Biden, l'Inflation Reduction Act, che è un vasto, ampio, ingente programma di aiuti statali per l'economia americana, volta tra l'altro a promuovere la transizione ecologica negli Stati Uniti che però, per motivi tecnici che non ho adesso il tempo di spiegarvi, è vista come un atto ostile perché esclude da quella transizione ecologica americana alle imprese europee e perché introduce alcuni elementi di protezionismo che possono danneggiare appunto le industrie europee. Quindi ciò che Macron e gli europei hanno di fronte è un nuovo presidente americano, amico dell'Europa, ma c'è la consapevolezza che occorre che l'Europa sia forte, solida, per poter navigare anche in periodi in cui rapporti, diciamo in cui l'Oceano Atlantico, che divide e ci divide dagli Stati Uniti, navigare in un Oceano Atlantico dove il mare può essere mosso, diciamo così. Altra questione che affronto rapidamente e che ha convinto Macron a fare questo passo sono i rapporti tra l'Unione Europea e la Cina. Ci sono tensioni crescenti che finora sono state governabili, ma che rappresentano un'altra grande sfida, grandissima sfida, anche questa esistenziale potenzialmente per l'Unione. Ora io qui vi ho messo queste immagini, le riassumo perché il tempo è poco, molto brevemente, anche perché alcune di queste questioni sono abbastanza note, insomma. La prima è la crisi per ora diplomatica e politica tra la Cina e Taiwan. Non c'è, credo, molto da dire su questo. È potenzialmente il prossimo pericolosissimo ambito di crisi internazionale. E naturalmente l'Unione Europea ha spesso preoccupazione, tensione anche, ansia per quanto sta accadendo o potrà accadere tra la Cina e Taiwan. La seconda immagine è quella che in basso riguarda una popolazione, una etnia di uiguri. Qualcuno di voi forse ne avrà sentito parlare. Si tratta di una etnia turcofona, di religione musulmana, che vive in una regione nord-occidentale della Cina, o Xinjiang, e che è repressa dalle autorità cinesi con brutalità. Il 9 maggio del 2022 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sulla questione degli uiguri, in cui ha accusato la Cina di crimini contro l'umanità, perché i cinesi deportano gli uiguri, che vogliono raggiungere l'indipendenza dalla Cina, li obbligano al lavoro forzato, ci sono sterilizzazioni forzate degli uiguri per impedire che facciano figli, evidentemente, c'è separazione di bambini dai genitori, insomma c'è una violenta repressione fatta di crimini contro l'umanità nei confronti della popolazione degli uiguri in Cina e naturalmente l'Unione Europea. Ora, questa è stata, diciamo, una risoluzione del Parlamento Europeo del giugno del 2022. Anche le Nazioni Unite nell'agosto del 2022 hanno preso una posizione durissima contro la Cina sulla questione degli uiguri ed è un ulteriore elemento di tensione tra Unione Europea e Cina. L'Unione Europea difende i diritti e libertà di questa popolazione, questo evidentemente provoca tensioni con la Cina. Tensioni che in tempi recenti sono divenute ancora più intense perché un paese dell'Unione Europea, la Lituania, ha consentito alla fondazione, alla nascita, ad ospitare una rappresentanza di Taiwan nel suo territorio, una rappresentanza commerciale di Taiwan nel territorio della Lituania. La Cina ha considerato questa una offesa politico-diplomatica per i rapporti che intercono tra Cina e Taiwan e ha iniziato una sorta di embargo economico nei confronti della Lituania. Naturalmente l'Unione Europea si è schierata immediatamente a fianco della Lituania, i rapporti commerciali come sapete sono competenza della Unione Europea, quindi un embargo, misure restrittive da parte della Cina contro la Lituania sono state correttamente interpretate come misure restrittive contro l'intera Unione Europea. Peraltro alcuni dei prodotti che la Lituania commerciava con la Cina erano prodotti fatti di varie componenti, alcune di queste componenti erano realizzate fuori dai confini lituani in altri paesi europei e questo ha portato a un ulteriore inasprimento dei rapporti tra Cina e Unione Europea. Queste sono questioni globali, generali che riguardano l'Unione Europea, ma ci sono questioni non meno importanti che hanno, che non riguardano l'Unione Europea, ma riguardano paesi con cui l'Unione Europea avrà, ha già rapporti, paesi europei con cui l'Unione Europea ha rapporti e ne vorrà avere ancora più stretti in passato e li vedremo tra un attimo. Questa è la valutazione che l'Unione Europea ha dato attraverso lo strategic compass che è stato approvato dal Consiglio Europeo nel marzo del 2022. Lo strategic compass è una sorta di dottrina delle relazioni esterne dell'Unione Europea ed è stata approvata dagli uffici dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, in cui come vedete, tra le altre cose, la Cina è definita, un partner per la cooperazione. Però questa è una banalità, è una banalità perché è evidente che la Cina non si può non pensare a un mondo che coopera escludendo la Cina, la Cina non può non essere inclusa. Ma l'aspetto più importante e rivelatore è che la Cina per l'Unione Europea ormai è un concorrente economico, non un partner, un concorrente economico e un rivale sistemico, per le ragioni che le slide ve le metterò a disposizione e quindi le potrete analizzare con più attenzione, ripeto, sto cercando di sintetizzare per motivi di tempo, ma questo lascia intendere che le questioni con la Cina sono state finora governabili, anche se ci sono state tensioni, crisi molto forti, ma il futuro è tutto da scrivere, è potenzialmente un futuro molto, molto rischioso, gravido di tensioni. Ma come vi dicevo, la questione non è soltanto quella dei rapporti tra Cina e Unione Europea. Una fonte di preoccupazione per l'Unione Europea sono i rapporti che la Cina sta stabilendo con alcuni paesi che sono in Europa, sono fuori dall'Unione Europea, ma sono paesi che hanno già rapporti economici, politici o di altra natura con l'Unione Europea. E vorrei fare riferimento per farvi capire come è percepita la sfida portata dalla Cina alla stabilità stessa dell'Europa. Vorrei fare riferimento a questo rapporto dello European Council on Foreign Relations che ha mappato, come vedete, questo rapporto è del 2018, la crescente presenza cinese in una zona cruciale, i Balcani Occidentali. I Balcani Occidentali sono un'area che non è ancora parte dell'Unione Europea. Molti di quei paesi sono candidati o potenziali candidati e naturalmente l'Unione Europea guarda con preoccupazione questa crescente influenza cinese, di cui vi porto due esempi. Il primo è un esempio che fa parte della normale attività economica che un paese è libero di svolgere. Questi sono gli investimenti diretti cinesi, questi dati sono aggregati, riguardano anche Hong Kong e Taiwan, in Serbia, ma la gran parte di queste cifre che voi vedete sotto gli anni di riferimento sono investimenti diretti cinesi in Serbia, il che implica, indica una crescente influenza economica della Cina in Serbia, che è uno dei paesi cruciali dei Balcani Occidentali. Ancora più importante, ma ci sono molti altri esempi, ripeto, vado abbastanza sinteticamente, è ciò che la Cina ha fatto in un altro paese dei Balcani Occidentali. La Cina ha finanziato la costruzione di una autostrada che dovrebbe unire nord e sud del Montenegro, con conseguenze che, come vedrete in questo video, che non ha un audio, ma è fatto di sottotitoli, leggerete i sottotitoli, questa influenza economica cinese in Montenegro ha potenzialmente, come vedremo, delle implicazioni politiche estremamente preoccupanti per il Montenegro, e forse non solo per il Montenegro, come vedrete. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. ecco quindi come vedete questo è un esempio di rapporti economici siamo creati dalla cina con in questo caso i paesi un paese dei balcani occidentali che possono avere delle implicazioni politiche pesantissime questa è l'altra sfida sistemica la cina ultima questione e poi passo concludere la guerra in ucraina questa che vedete l'immagine l'immagine un'immagine di buccia dove i russi soldati russi hanno commesso crimini contro l'umanità ora io non mi soffermo molto su questo aspetto diciamo e diciamo sappiamo bene che l'unione europea ha reagito sostenendo l'ucraina siamo al decimo pacchetto di sanzioni contro la russia non mi soffermo diciamo sugli aspetti economico finanziari sul sul sostegno dato anche alla diciamo sostegno indirettamente militare o direttamente militare dato all'ucraina ciò che vorrei sottolineare è che l'invasione russa dell'ucraina iniziata il 24 febbraio del 2022 rappresenta una sfida per i una minaccia ai valori ai principi della unione europea è una cosa che non riguarda solo l'ucraina questo è chiaro è una cosa che riguarda tutta l'europa qui vedete sulla destra una frase di char michel il presidente del consiglio europeo che è abbastanza chiara da questo punto di vista non c'è bisogno di commentarla vorrei però farvi sentire un breve intervento di car di david sassoli che come sapete è stato presidente del parlamento europeo recentemente scomparso il quale qui diciamo fa un discorso al parlamento il 16 gennaio del 2021 sassoli in questo discorso commemorava inizialmente un fatto storico non commemorava ricordava fatto storico ovvero l'invio di carri armati dell'unione sovietica in lituania nel gennaio del 1991 eravamo agli ultimi mesi di esistenza della unione sovietica la lituania reclamava la propria indipendenza dall'unione sovietica mosca reagì inviando carri armati per reprimere quel tentativo sassoli ricorda quel fatto e da quel fatto poi parte per ricollegarsi a un avvenimento che precede la guerra in ucraina ovvero l'arresto di navanni l'oppositore di putin da parte dell'autorità russe sassoli come sapete quale che sia il giudizio che si può dare sulla sua appartenenza politica sulle sue posizioni politiche ma era un uomo di grande equilibrio di grande moderazione ebbene prima dell'invasione russa torna ripetere in questo discorso sassoli chiarisce che ciò che sta accadendo in russa in quel caso l'arresto di navanni che era chiaramente dimostrazione dei principi autoritari antidemocratici vigenti in russia rappresentino una sfida per i principi rappresentassero già allora una sfida per i valori principi gli obiettivi democratici perseguiti dalla unione europea ripeto prima dell'invasione dell'ucraina 30 anni fa il 13 gennaio 1991 14 civili morirono e centinaia di persone rimasero ferite a causa dell'arrivo dei carri armati sovietici quando attaccarono la torre della televisione di vilnius i lituani stavano difendendo la loro indipendenza e la loro libertà stavano difendendo la democrazia e lo stato di diritto questi sono i nostri valori europei oggi rendiamo omaggio a quei cittadini che difesero con la loro vita questi valori e a proposito di valori fondamentali siamo profondamente preoccupati per l'arresto di alexei navalni avvenuto al suo ritorno a mosca nella giornata di ieri l'europa gli ha salvato la vita e ringraziamo le autorità tedesche per averlo curato e assistito invitiamo le autorità russe a rilasciare il signor navalni la sua detenzione costituisce una violazione dei diritti umani e noi lo sosteniamo e vorremmo che presto ci venisse a trovare qui al parlamento europeo questa è quindi la posizione assunta gennaio 1900 la posizione assunta chiedo scusa se riesco spero la posizione assunta sin da allora da da david sassoli dal parlamento europeo questa posizione evidentemente è stata poi rinnovata da uomini diversi da sassoli al momento dello scoppio dell'inizio della della guerra in 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 ucraina se rimaniamo nel parlamento europeo il parlamento europeo ha dichiarato russia stato sponsor del terrorismo ha votato a favore ora qui ci sarebbe un video però non c'è tempo di mostrarlo comunque diciamo è un video che mostra la seduta del parlamento europeo nel quale si è deciso di concedere lo status si è diciamo spinto per chiedere la concessione dello status di candidato alla di paese candidata all'unione europea per per l'ucraina e queste posizioni pro ucraina naturalmente la guerra in ucraina è una di quelle sfide sistemiche di cui vi parlavo prima è perfettamente congrua con le posizioni dell'opinione pubblica vi mostro molto rapidamente due slide che fanno vedere dati tratti dall'eurobarometro del 2022 e l'ultimo che vi mostro due aspetti molto importanti che si ricollegano anch'essi alle decisioni prese da macron la gran parte degli europei considera l'invasione dell'ucraina come una minaccia alla sicurezza della unione europea quindi una sfida percepita anche come una sfida portata alla unione e la gran parte dei cittadini dell'unione europea considera quanto sta accadendo in ucraina una sfida anche al loro proprio paese e per questo questo spiega perché la gran parte dei cittadini dell'unione europea poi naturalmente le percentuali cambiano paese a paese ma questi sono dati aggregati sul piano dell'unione europea consideri le varie misure i vari pacchetti di aiuti i i vari pacchetti di sanzione e così via presi dall'unione europea dal febbraio del 2022 ad oggi come corretti come giusti anche il finanziamento della fornitura e della consegna di equipaggiamento militare all'ucraina che è l'ultimo di questo cilindro di queste barre chiedo scusa che vedete in questa slide è trova il consenso di gran parte dei cittadini dell'europa di fronte a queste sfide sistemiche esistenziali macron ha lanciato la sua idea allora in questa ultima parte rapidamente qui vedete che cos'è comunità politica europea e analizziamo rapidamente gli aspetti positivi e gli aspetti discutibili della proposta di macron perché ci sono entrambi sicuramente ci sono entrambi qui vedete il formato della della comunità politica europea la comunità politica europea è un approccio intergovernativo i protagonisti della comunità politica europea sono i governi non sono le istituzioni dell'unione europea non è la commissione europea non è il consiglio europeo o il consiglio dei ministri dell'unione europea o il parlamento europeo è un format che è centrato sui governi è collaborazione tra governi come vedete c'è diciamo la la descrizione del della modalità lavorativa i summit periodici e così via ma l'aspetto interessante ed è uno degli aspetti più diciamo forse positivi è che questo format include anche paesi che non fanno parte dell'unione europea concentriamoci un attimo dopo quello che vi ho detto sulla gran betagna la gran betagna non è nell'unione europea come fare allora per associare la gran betagna la risposta alle sfide sistemiche che vi ho prima descritte creiamo un contenitore diverso la comunità politica europea ed associamoci la gran betagna associamoci la sua capacità diplomatica e sue risorse diplomatiche le sue risorse militari la sua ricchezza questo è uno dei motivi l'altro è come vedete il fatto che i balcani sono inclusi come fare a sottrarre i balcani dall'influenza cinese dall'influenza russa perché c'è anche quella associamoli alla comunità politica europea nell'attesa che forse si potrà a lungo che questi siano pronti a entrare nella unione europea come fare per far sentire la vicinanza dell'unione europea all'ucraina o ai paesi come la georgia la moldova che sono sotto la pressione dell'unione sovietica scusate della russia ovviamente ma che non sono presumibilmente ancora a lungo non so non saranno membri dell'unione europea li associamo in questo format che è più largo più ampio che è parallelo esterno alla unione europea e diciamo li associamo per tenerli vicini alle democrazie alla economia di mercato alle istituzioni dell'unione europea per far sentire loro la vicinanza dell'unione appunto sottrarli all'orbita all'influenza di potenze che sono considerate o del tutto stili o potenzialmente ostili come la russia e la cina e quindi si rafforza diciamo l'europa di fronte a queste sfide e si pone parzialmente rimedio anche alla fuoriuscita della gran britannia questa è l'idea di macron fondamentalmente ed è diciamo l'aspetto positivo dell'idea di macron poi ci sono anche le questioni che sono però discutibili e le passo rapidamente in rassegna per concludere velocemente è una struttura intergovernativa le istituzioni unione europea hanno poco o nessun spazio questa è la foto del primo incontro della comunità politica europea che si è tenuta a praga nell'ottobre scorso e la foto diciamo è esplicativa a parte del cerimoniale ed ha un valore simbolico importante va interpretata voi vedete che al centro di questa foto ripeto la prima riunione della comunità politica europea tenutasi a praga nell'ottobre scorso al centro di questa foto c'è emmanuel macron ai lati in fondo ai margini di questa foto ci sono sulla sinistra come vedete char michel il presidente del consiglio europeo e alla destra con questa giacca fucsia la von der lion la loro collocazione in questa foto che ripeto a un valore simbolico spiega chiaramente chi è che conta nella comunità politica europea contano i governi non contro le istituzioni l'altra questione e su questo chiudo che vorrei sottoporre la vostra attenzione è che questa comunità politica europea contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere ha suscitato preoccupazioni tra i paesi che non sono ancora dentro l'unione europea ma che si sono candidati o che sono potenziali candidati perché perché questi paesi temono che la comunità politica europea cioè rapporti non istituzionalizzati rapporti di cooperazione di aiuto sia in qualche modo concepita da emmanuel macron e anche da qualche altro governo europeo come un succedaneo una diciamo alternativa a una loro piena integrazione dentro l'unione europea che invece rimane per tutti loro il vero obiettivo non pensate questo è il messaggio che ha lanciato kuleba il ministro dell'estero ucraino o cheppure è stato sottolineato da questi due studiosi francesi che vi ho qui messo in fondo a questa slide non pensiate questo è il messaggio degli ucraini ma anche dei moldavi dei bosniaci dei serbi dei montenegrini eccetera di associarci alla comunità politica europea per diciamo indorare la pillola di una nostra mancata adesione alla unione noi vogliamo entrare nell'unione questo è solo un primo passo la comunità politica europea soltanto un primo passo frutto della temperie della crisi della della guerra in ucraina ma noi vogliamo quello vogliamo una piena integrazione nella unione europea questa dichiarazione di kuleba nessuna alternativa all'integrazione europea potrebbe essere accettabile ha fatto seguito nel giugno del 2022 su questo chiudo veramente a questo tweet lanciato dallo stesso kuleba polemico nei confronti di macron perché macron il giorno prima aveva detto che sì l'europa doveva stare accanto all'ucraina senza se e senza ma ma un ma c'era una versativa c'era ed era il fatto che occorreva non umiliare la russia kuleba come avete visto come vedete respinge critica questa impostazione e poco tempo dopo dice a macron grazie per la comunità politica europea ma noi vogliamo entrare nella unione europea e lo stesso ripeto come vedete da questa da questi brano tratto da questo intervento di questi due studiosi francesi pare per tutti gli altri paesi particolarmente balcani occidentali ma anche giorgia mondale così via che aspirano a entrare nella unione europea la comunità politica europea quindi è il frutto della crisi delle crisi dei grandi sommovimenti geopolitici che non è esagerato definire epocali li leggeremo sui libri di storia fra qualche anno è una risposta data dal presidente francese e il presidente francese chiunque di sia macron o qualcun altro è cruciale centrale nella unione europea a aspetti positivi indubbiamente può essere visto soprattutto come una fase di transizione ma anche come vediamo delle profili che si prestano a critica e a dibattito chiudo con questo e vi ringrazio per l'attenzione professore grazie mille ma non ci abbandoni anch'io considero la comunità politica europea una sorta di sedativo che stiamo dando ai paesi in attesa di entrare nell'unione europea ma d'altra parte i tempi non si possono accorciare perché comunque ci sono delle procedure che vanno seguite per diventare membro dell'unione europea e quelle vanno anche rispettate però effettivamente sembra piuttosto un sedativo ora c'è una domanda quindi se sforiamo proprio di due minuti spero che non ci siano problemi per i colleghi che utilizzano l'aula una domanda che arriva appunto dai partecipanti è questo format sostituirebbe gli attuali organismi istituzionali europei no la risposta è molto semplice no anzi in quel discorso di macron al parlamento europeo macron ha chiesto la riforma dei trattati dell'unione europea e ha poi detto diciamo chiesto la cpie la comunità politica europea ma la comunità politica europea è parallela non sostituisce le istituzioni della unione europea tra l'altro come abbiamo visto è già attiva è già attiva ed è ripeto un format parallelo alla unione europea quindi la risposta è molto semplice no perfetto grazie poi c'era una non era una domanda una considerazione che però ecco la condivido anche col professore l'europa è sempre pachiderma mai compatta nelle decisioni vuole reagire a questo sì questo è vero è pachidermica la democrazia spesso è pachidermica questa è una cosa a cui bisogna sempre pensare le democrazie l'unione pachidermica potrebbe essere più veloce ma spesso le democrazie agiscono con lentezza perché la procedura democratica richiede dialogo richiede controllo richiede procedure perché la democrazia è anche procedura i regimi non democratici agiscono più rapidamente perché diciamo decide uno solo in pochi ma la democrazia alla fine vince o quantomeno offre le soluzioni migliori questo è qualcosa che bisognerebbe sempre avere in mente vedo ancora un commento più che un sedativo sembrerebbe una camera di compensazione nell'attesa che si compie il processo di adessione in questa ottica la proposta sembra ragionevole per ampliare lo status eh dei paesi eh candidati sì sì questa è eh naturalmente c'è una visione ottimistica ed una visione pessimistica una visione favorevole e negativa ho parlato di entrambe e certamente sono d'accordo nell'attesa di una di una di un ingresso di questi paesi questa è una è una peraltro brevemente come avrete visto forse dentro la comunità politica europea ci sono azerbaijan ed armenia che sono due stati che hanno una crisi un conflitto anche ehm violento diciamo eh azerbaijan e armenia si sono potuti incontrare in questa eh questo format a praga e c'è stato un dialogo tra i rappresentanti di questi due paesi e questa una ulteriore dimostrazione del fatto che la comunità politica europea ha quegli elementi di 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 critici se così vogliamo dire ma è anche una camera di compensazione un sedativo chiamiamolo come vogliamo ehm un calmante non so diciamo in attesa appunto della piena adesione di questi paesi alla alla Unione Europea. Ancora una domanda in questo contesto esplosivo si può riprendere un dialogo per il disarmo nucleare? direi di no. La scelta fatta pochi giorni fa da Putin in questo senso di di bloccare appunto un trattato ehm siglato con gli Stati Uniti per la riduzione e il controllo della 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 degli armamenti atomici va in quella direzione ma sia chiaro in questo caso non è soltanto una questione che riguarda la Russia i conflitti le tensioni non per il che ci sono sul piano internazionale per il momento non sembrano creare l'ambiente idoneo per questa per questo sviluppo insomma che naturalmente è auspicabile però. Un'ultima domanda poi chiudiamo perché dobbiamo lasciare l'aula. Ai suoi occhi chi è un partner dell'Europa per riprendere un'azione diplomatica per la pace non capisco però la domanda chiedevo al partecipante di forse di esplicitarla meglio vediamo se è probabile anche che si siano scollegati perché nel frattempo va bene chiudiamo qui la alla giornata ecco chi è un potenziale partner per dialogare sui temi di distensione. Allora potenziali tutti io sono convinto che il dialogo sia sempre sia sempre utile evidentemente per cui poi naturalmente c'è la realtà e con la realtà dobbiamo fare i conti. Se diciamo il dialogo a cui fa riferimento il nostro interlocutore e il dialogo che serve a porre a trovare una soluzione pacifica alla guerra in Ucraina beh in questo momento credo che l'Unione Europea questo è il mio punto di vista naturalmente debba stare accanto alle potenze agli stati che sostengono l'Ucraina e quindi diciamo sostenere eh le posizioni eh quella posizione quella quel quell'orientamento rispetto rispetto alla a quanto è accaduto insomma quindi eh dopodiché ripeto il dialogo è è fondamentale e devi cercare di stabilirlo con il più ampio rintaglio possibile di soggetti però c'è la realtà ripeto e chiudo dicendo che dialogare oggi con la Russia di Putin dal mio punto di vista è piuttosto complicato. Grazie professore. Noi le dobbiamo chiedere scusa perché abbiamo diciamo dovuto limitare il suo intervento perché ma questa era la prima lezione era l'ambito delle lezioni di Europa quindi era importante anche un po' presentare tutte le attività e le iniziative. Come sempre la ringraziamo per la per diciamo il chiarimento anche di questa questione della comunità politica europea e ma sicuramente organizzeremo nel corso degli anni altri appuntamenti di storia e quindi non mancheremo di coinvolgerla. Grazie mille ma volevo ringraziare ancora tutti i partner delle lezioni d'Europa eh in particolare volevo anche ringraziare Gianluca Affinito che ci ha aiutato nella gestione della piattaforma e quindi eh ha risposto a tutti i vostri ai vostri problemi di collegamento eh grazie anche ai nuovi partner alla regione siciliana all'Andis Politeia all'Università di Palermo e la regione Lazio per il contributo che eh stanno dando nel diffondere l'informazione sui loro territori. Grazie mille e ci vediamo per chi di voi ci voglia continuare a seguire ehm giovedì prossimo quando parleremo di fonti di informazione sempre dalle dieci alle undici e trenta. Arrivederci a tutti.